E sono oltre 400.000 i morti nel mondo, i contagi quasi 7 milioni, la situazione più critica ora è in America Latina. Il Papa, l'Angelus, invita a non cantare troppo presto vittoria di fronte al pericolo del Covid e a rispettare le regole anticontagio. Enzo Romeo. La piazza pian piano si rianima, fedeli distanziati e con le mascherine si assapore il ritorno alla normalità, anche se il virus non è sconfitto. La vostra piccola presenza in piazza è segno che in Italia la fase acuta dell'epidemia è superata. L'invito è rispettare le regole di prevenzione del contagio. State attenti, non cantare troppo presto vittoria. Seguire con cura le norme vigenti, perché sono norme che ci aiutano a evitare che il virus vada avanti. Se da noi il Covid è meno aggressivo, in altre parti del mondo i focolai virali fanno ancora strage, specie in America Latina. Venerdì scorso, in un paese, è morto uno al minuto. Terribile. Alla fine Francesco invita a recitare la preghiera che gli insegnò sua nonna Rosa. Fai il mio cuore simile al tuo. Manifestazioni in tutti gli Stati Uniti.